Motivazione e disciplina. Cosa significano questi concetti? Che differenza c'è tra i due e perché è importante saperlo? Oggi mi gira di fare questa riflessione con voi, seguitemi fino alla fine del video. Io penso che la riflessione sia un qualcosa di molto importante perché ci aiuta a definire i nostri obiettivi di crescita personale e a capire come centrarli in modo da diventare persone migliori. Il fatto è che al giorno d'oggi non riflette più nessuno, la vita è troppo frenetica. Siamo costantemente bombardati da stimoli poco sani che ci tolgono la concentrazione ed è molto difficile trovare uno spazio sicuro. È molto difficile ritagliarsi del tempo da dedicare a noi stessi. Uno dei motivi per cui mi piace venire nel bosco da solo è che la combinazione di solitudine e silenzio mi aiuta a riflettere. Dunque oggi condivido con voi un po' di pensieri, fatemi sapere qui sotto nei commenti se è una tipologia di video che vi piace perché in quel caso potrei addirittura inaugurare un nuovo format, Riflessioni dal Bosco. Speriamo che non ci sia da qualche parte qualcuno che ha già una rubrica con questo nome perché si tratterebbe di un clamoroso plagio da parte mia. Quando si parla di successo, di crescita personale, di raggiungimento degli obiettivi, si parla anche sempre di motivazione. Voi sapete che io sono uno che fa un sacco di movimento. Dove trovi la motivazione per allenarti? È la domanda che mi è stata fatta tante volte da amici, conoscenti e anche da voi che mi seguite qui sul canale. La mia risposta è ciò che mi fa andare avanti non è la motivazione ma la disciplina, che è cosa ben diversa. La motivazione è quell'entusiasmo che ci spinge a fare qualcosa, ma è un entusiasmo momentaneo e proveniente da fonti esterne. Non a caso la rete è piena dei famosi video motivazionali. La disciplina invece è un qualcosa che abbiamo dentro. È la capacità di darci delle regole per il nostro benessere o per il conseguimento di un obiettivo e di rispettarle indipendentemente dalla voglia. La motivazione è altalenante e passeggera, per cui se vogliamo centrare i nostri obiettivi serve disciplina, o meglio autodisciplina. Perché qui non parliamo di ordini imposti da qualcuno, ma di regole che noi stessi ci diamo. Qualunque sia il nostro obiettivo nella vita è difficile essere costanti, è difficile continuare a spingere, specialmente se si tratta di un obiettivo a lungo termine, per cui vedremo i risultati solo dopo un certo tempo. Voglio suggerirvi tre mosse che io utilizzo per essere disciplinato, sperando che possano aiutare anche voi. Vi spiego come le applico al caso dell'allenamento e in generale al mantenimento di uno stile di vita sano, ma potete applicarle a quello che volete. Allo studio, alla dieta, al miglioramento di una vostra abilità e via dicendo. Mossa numero uno per essere disciplinati è creare attorno a sé un ambiente favorevole alla disciplina. Perché nessuno di noi è un eroe. Ho iniziato qualche anno fa ad allenarmi a corpo libero, sia perché mi piaceva l'idea di incrementare la forza sfruttando solamente il corpo e la gravità, sia perché adoro stare all'aperto e quindi volevo allenarmi all'aperto. Del resto ho cominciato l'estate. Quando poi è arrivato il primo inverno e sono stato costretto ad uscire con la pioggia, ad appendermi a sbarre congelate e via dicendo, la famosa motivazione ha cominciato a venire meno. Ho cominciato a saltare gli allenamenti, ho cominciato a dire oggi piove vado domani e mi sono accorto che la cosa non stava funzionando. Così mi sono attrezzato per poter svolgere tutto il mio allenamento completo in casa. Ho preso una barra per trazioni, per fare esercizi di tirata, ma non solo, e un giubbetto zavorrato che utilizzo per varie altre tipologie di esercizi. Il mio è un allenamento in multifrequenza, questo significa che alleno tutto il corpo in ogni sessione. In questo modo mi sono messo nella condizione di non avere scuse. Ho tutto lì comodo a portata di mano, non devo uscire alle intemperie, non devo mettermi nel traffico per andare in palestra. E la cosa ha funzionato perché ho continuato ad allenarmi con regolarità. Poi ovviamente nulla mi impedisce di allenarmi all'aperto, se le condizioni lo permettono. Nulla mi impedisce di svolgere parte dei miei allenamenti in palestra, come sto facendo nell'ultimo periodo. Il mio concetto di stile di vita sano comprende sia l'allenamento che una buona alimentazione. Si sa che il cibo spazzatura fa male, ma sappiamo anche che è molto soddisfacente e che crea dipendenza. Come fare quindi per essere disciplinati dal punto di vista dell'alimentazione? Semplice, non comprare schifezze. Alcol, bibite casate, patatine, zanzare, dolciumi, cibi ultraprocessati, tutta questa roba in casa mia non entra. Mi concedo qualcosa quando sono fuori, quando sono a pranzo o a cena, a casa di amici o parenti, il che avviene una, massimo due volte al mese, non di più. Mossa numero due, ragionare sul lungo periodo. Molti obiettivi importanti necessitano di anni per essere centrati, quindi bisogna avere pazienza, affrontare gli step una alla volta ed essere costanti. Se si ha la pretesa di avere subito dei risultati, si finisce col deprimersi perché i risultati non arrivano dall'oggi al domani. Purtroppo abbiamo perso la capacità di ragionare sul lungo periodo ed io, lavorando con i bambini, mi rendo conto di come questo concetto malsano del tutto e subito, tipico della società odierna, arriva nelle loro teste, nelle teste delle nuove generazioni, fin da piccoli. Io da ragazzino ero capace di passare una giornata intera a giocare con fango e bastoni. Passavo le ore a giocare con i Lego, costruivo le astronavi, pezzo per pezzo, seguendo il manuale. Oggi è diventato quasi impossibile far fare questo ai bambini. Da divulgatore impegnato con le scuole elementari posso dirvi che anno dopo anno diventa sempre più difficile coinvolgerli in attività manuali che richiedono un minimo di applicazione. Vengono agevolati in tutto e alla minima difficoltà arriva qualcuno a fare le cose al posto loro. Non gli viene data la possibilità di mettere le mani in pasta seriamente, di sbagliare, di imparare dai propri errori. In questo modo crescono senza pazienza, senza voglia di fare, pensando che debba sempre essere tutto semplice e veloce. Quando qualche anno fa ho iniziato ad allenarmi seriamente non mi sono posto degli obiettivi ben precisi per quanto riguarda sia la crescita muscolare che le performance e non mi sono dato delle scadenze. L'obiettivo è mangiare sano e allenarmi per tutta la vita. Più che sui risultati ho deciso di concentrarmi sul processo di miglioramento e trarre soddisfazione da quello. Non ho un fisico imponente ma di sicuro è meglio di quello che avevo quando ho iniziato. E stessa cosa vale per le performance. Sono migliorato rispetto ad un anno fa, due anni fa, tre anni fa? Sì, molto bene. Allora continuo così. Mosso numero tre, variare. Perché facendo sempre le stesse cose si finisce per rompersi le scatole e quando è così si tende a mollare. Io non sono un atleta professionista, non faccio gare, quindi come ho già detto più volte non ho particolari obiettivi in termini di prestazioni o di ipertrofia muscolare. Semplicemente tutta la letteratura scientifica ormai dice che l'attività fisica allunga la vita e siccome io voglio campare a lungo e bene cerco di fare più movimento possibile nella maniera più diversificata possibile. Ho la fortuna di fare due lavori che mi danno entrambi la possibilità di muovermi molto e da questo punto di vista sono sicuramente avvantaggiato rispetto a chi sta seduto ad una scrivania tutto il giorno. Che poi la fortuna c'entra poco perché sono lavori che mi sono scelto appositamente. In più mi alleno, la parte più importante della mia attività fisica consiste in un allenamento di forza a corpo libero in multifrequenza. Tirata, spinta, addome e gambe in ogni sessione. Questo 2-3 volte a settimana. Riesco a spingere con questi regimi tutto l'anno? Ovviamente no. Capita il periodo in cui mi sento stanco e senza forze. Capita la sera che torno dal lavoro e non mi va di fare niente. Capita che semplicemente mi rompo di fare sempre le stesse cose. Quando succede cerco di cambiare tipologia di allenamento, ad esempio inserendo l'arrampicata o del lavoro con i pesi al posto dei classici esercizi a corpo libero come sto facendo nell'ultimo periodo. In questo modo introduco una botta di quella famosa motivazione, di entusiasmo legato alla novità. Se non mi va di faticare o se ho ancora dei dolori per cui mi accorgo di non aver recuperato bene dall'ultima sessione di allenamento, faccio una lunga camminata, faccio dello stretching o del rope flow a bassa intensità. L'importante è mantenermi attivo, continuare a muovermi nell'attesa che passi il periodo no, chiamiamolo così, e che possa ricominciare con la routine di sempre. Con questo concludo il video ragazzi, spero che queste tre mosse che con me funzionano alla grande possano aiutare anche voi. Se questa tipologia di video vi piace fatemelo sapere qui sotto nei commenti ed eventualmente datemi dei suggerimenti sugli argomenti da trattare nelle prossime puntate. Grazie per la visione, un saluto e ci vediamo al prossimo video.